Quota fissa e quota variabile. Il bando della provincia che garantisce un sostegno agli impiantisti colpiti dallo stop alle attività inserito nelle misure per il contenimento dei contagi tiene conto anche delle differenze nei costi gestionali. A disposizione ci sono 500.000 euro ovvero il 20% del fondo covid in arrivo dallo Stato. Un quarto di quel mezzo milione per gli impianti sciistici ovvero 125.000 euro sarà suddiviso tra tutte le società attive che formalizzeranno il loro interesse. In totale in provincia ci sono 27 società se parteciperanno tutte avranno meno di 5.000 euro in quota fissa. La distribuzione dei tre quarti di fondo rimanenti ovvero 375.000 euro sarà legata a una graduatoria legata alle spese di gestione. Un punto di coefficiente per le sciovie, due per le seggiovie a collegamento fisso, tre per quella collegamento temporaneo, quattro per cabinovie e funivie, cinque per gli impianti con campo scuola. Venerdì intanto la provincia dovrebbe incontrare a Roma il ministro ai rapporti con il Parlamento Federico d'Inca per parlare della difficile situazione degli impianti di risalita ma anche dell'ultimo ondato di maltempo che nei soli siti di competenza di Palazzo Piloni ha causato danni per 40 milioni di euro.